Federico Astro, sei uno dei veterani, possiamo dirlo, del Sommariva Perno, ancora quest'anno qui a Sommariva. Quali sono le tue sensazioni dopo i primi due giorni di ritiro? Allora, sì, questo per me è il quarto anno, Sommariva è una società sanissima, contento di essere di nuovo qua. Le sensazioni positive, questo è solo il secondo giorno, manca maggior parte della gente, da lunedì dovrebbe esserci il gruppo al completo, però comunque sensazioni buone, giovani, attenti, che stanno ad ascoltare, vecchi abbiamo, la società è andata a intervenire su qualche vecchio maniera di esperienza, che era quello che serviva dopo che è andato via Ciperoni, esempio anche Marchisio, e comunque sarà un campionato difficilissimo, dove bisognerà affrontarlo come la seconda parte dell'anno, dell'anno scorso, dove non abbiamo mai avuto paura di andare a provare a proporre calcio, andare a prendere alte squadre, andare a pressare, e dovremmo andare a migliorare quello che l'anno scorso abbiamo sbagliato in tre protopartite, dove abbiamo perso quei tre punti dopo il novantesimo, che sono quei punti che a fine anno servono tanto per una salvezza, magari con un mese di anticipo, ecco, questo. Oggi a studare in campo abbiamo visto tanti ragazzi giovani, una responsabilità in più per voi anziani, perché dovete comunque contribuire. L'obiettivo è quello di dargli una mano e cercare di farli adattare subito al tipo di campionato, perché comunque arrivando da un settore giovanile il calcio è poi quello dei grandi diversi, quindi l'importante è che si adattino subito sull'intensità, sulla voglia, e giocare sempre è semplicissimo, visto che siamo in una promozione, quindi dobbiamo giocare semplice.